Cosa ci faceva Elisabeth al The Voice e di cosa avremmo parlato con Simon e Brenda, ma lo scoprirò presto, me la pagherà cara. Devo andare da mia madre, devo chiedergli un aiuto finanziario. Non è possibile, come mai qua? Hai bisogno di soldi, vero? Mamma lo sai che non è un buon momento questo per me. Di quanto hai bisogno adesso? Dammi quello che puoi, mamma. Aspettami qui, va. Pronto, Amorini? Prego. Grazie. A che ora ti dici, Cisera? Per una moretta. Ti accompagno io a casa. Va bene. Questa è l'ultima volta che ti do qualcosa. E te l'avevo detto, quella non era la donna per te, hai capito? Grazie. Adesso basta, cerca di crescere. Ciao, mamma. Va a dire a tua mamma che non è la mia. Ciao. Oh, ciao. Che, stai andando via? Sì, devo andare. Che è successo? Ma la lascia stare, che... Sì, è venuto ancora a chiedere soldi alla mamma. Sono proprio nei guai. Capito, dai. Ciao. Ciao, mamma. Scusami, ma ho un'altra buona concentra da fare. Ancora tuo figlio, eh? Ho visto che per dormire sarei solo. Cosa devo fare? Vuoi che vi parli io? Eh, la rovina è quella donna, guarda. Lascia perdere. Noi aiutiamo il tuo figlio, però, alla fine. Poi finirà sta storia, eh? Eh, non lo so come finirà. Andremo tutti sulla strada, figurami.